L'intento riformatore che in qualche modo è la pretesa di costruire un sistema complicato sì, ma in qualche modo completo in tutti i suoi aspetti, che aveva originato la legge 42, si è scontrato con la realtà, con la realtà durissima del periodo di crisi, delle crisi, in particolare della crisi finanziaria, che si è riverberata in manovre di emergenza che hanno completamente scardinato questa pretesa di un approccio riformatore. Probabilmente un processo già complicato di suo, come quello del federalismo fiscale, sarebbe stato complicato anche in epoca di finanza pubblica Florida, ma certamente diventa praticamente impossibile nel momento in cui si interviene tagliando, e tagliando, come è stato ricordato a più riprese, in modo spesso indiscriminato, cioè con dei tagli lineari, che si scontrano e sono arrivati al punto di scontrarsi con quelle che sono le esigenze minime indispensabili e inderogabili per il funzionamento stesso degli enti. Questo vale, senza, diciamo così, offesa per le regioni e i comuni, io credo che il caso delle province sia il caso limite, nel senso che tutti quanti ci rendiamo conto che i tagli predisposti in assenza di modifiche normative renderanno di fatto inevitabile il dissesto per buona parte, se non la totalità, degli enti provincia stesso. Ma è evidente che anche per le regioni e per i comuni questo tipo di situazione per moltissimi di loro si va prefigurando. Rimane vero che il federismo fiscale e l'ambizione di introdurre criteri che in qualche modo rendessero compatibili responsabilità e solidarietà in un contesto di efficientamento rimangono tuttavia veri e validi. E rimane anche valido che il principio che, mentre in passato si diceva che certi tipi di approcci, come quello di questi standard, fossero impossibili per assenza di dati, oggi questo tipo di obiezione non è più valida. Oggi i dati esistono. Certo, i dati possono essere migliorati, devono essere aggiornati e quant'altro, ma il lavoro che è stato fatto in questi anni sotto traccia da parte di SOS e COPF ha prodotto, forse, paradossalmente, una massa di dati eccessiva e che ha mandato in cortocircuito anche la capacità di intendere quali fossero esattamente gli indicatori più significativi per quanto riguarda i costi standard, i fabbisogni standard e quindi gli indicatori risultati. Resta poi, e lo sottolineo, il fatto che moltissime delle norme approvate di fatto risultano non applicate, non hanno prodotto ancora oggi, diciamo così, il loro risultato. Il riferimento ai LEA e all'EP è, credo, abbastanza scontato, però in assenza di questi manca un riferimento cardine per qualsiasi tipo di approccio per un federalismo fiscale serio. Noi, con questo convegno, lo dicevo all'inizio, abbiamo fatto una cosa chiaramente in contotendenza. Non è di moda, ad esempio, non è di moda parlare di province, noi siamo forse gli unici e gli ultimi che continuiamo a farlo per evidenziare un problema comunque reale e esistente. Non è di moda parlare di federalismo fiscale, ci rendiamo conto, però questa voleva essere una provocazione, una provocazione da cui passa anche il grido di dolore nel mondo delle autonomie locali rispetto, in qualche modo, a tante ambizioni che si sono create, ambizioni di efficientamento e di funzionamento anche migliori in termini anche di efficacia risposta ai bisogni cittadini che si sono creati nel passato e che si sono scontrate con una realtà che è molto, molto, molto diversa. Continuerà, evidentemente, questo ruolo di stimolo da parte della Commissione per il federalismo fiscale sappiamo che i cicli politici poi cambiano, ci sono le epoche di centralizzazione, le epoche di decentramento, vedete in Europa cosa sta succedendo, esattamente in questa sala, neppure tre anni fa si approvava il fiscal compact senza fatto dibattito e quasi l'unanimità, oggi se dovessimo, anzi quando si discute di fiscal compact qui si fa fatica a trovare soltanto un parlamentare che in qualche modo ne difenda le buone ragioni. Ricordo che appunto nella declinazione concreta che è stata fatta nella Costituzione italiana qualche spiraglio di flessibilità fu introdotto quasi soppiato e di nascosto perché sembrava che fosse una bestemmia. Fortunatamente oggi c'è e permette al governo di avere quei minimi margini di flessibilità per dare una risposta alle crisi. Non voglio farla lunga però io credo che non sia stato inutile ma comunque un'utile diciamo così provocazione il fatto di riportare qui nelle aude del Parlamento il tema del federismo fiscale perché prima o poi comunque tornerà in un Paese che siccome è diverso merita anche probabilmente delle risposte diverse per raggiungere il miglior risultato per tutti.